Shannon Doherty, l'indimenticabile Brenda Walsh di Beverly Hills 90.210, è morta sabato 13 luglio. Ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia. All'artista era stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno nel 2015. A gennaio scorso nel suo podcast The Let's Be Clear raccontò l'evolversi della malattia, sottolineando di non avere intenzione di arrendersi e di amare molto la vita, spiegando però di aver aver già dato disposizioni per il suo funerale. «So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli, perché so che accadrà e che me ne sto andando», disse Doherty, spiegando poi la sua richiesta di essere cremata, «voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso». Tra i tanti amici che hanno voluto darle l'ultimo saluto ci sono anche i colleghi della serie cult degli anni 90 Beverly Hills 9210 che insieme a Shannon sono diventati il simbolo di un'intera generazione. Jason Priestley, che interpretava Brandon, fratello di Brenda, l'ha ricordata così, scioccato e triste nell'apprendere della morte della mia amica Shannon. Era una forza della natura e mi mancherà. Mando affetto e luce alla sua famiglia in questo momento scuro. Anche Jenny Gart, che interpretava Kelly, amica nemica di Brenda, ha scritto un messaggio di cordoglio, «sto ancora elaborando il mio tremendo dolore per la perdita della mia amica di lunga data Shannon, la donna che ho spesso descritto come una delle persone più forti che abbia mai conosciuto». La nostra connessione era reale e onesta. Eravamo così spesso messe l'uno contro l'altro, ma niente di tutto ciò rifletteva la verità della nostra vera relazione, che era costruita sul rispetto e sull'ammirazione reciproce. Era coraggiosa, appassionata, determinata e molto amorevole e generosa. Mi mancherà e la onorerò sempre profondamente nel mio cuore e nei miei ricordi. Il mio cuore si spezza per la sua famiglia, per Bowie e per tutte le persone che lo amavano. Brian Austin Green che, come Duarte ha preso parte all'avventura di Beverly Hills 9210 fin dal 1990 e ha interpretato il personaggio di David Silver fino al 2000, ha ricordato la collega ed amica con un messaggio nelle stories. «Shan, sorella mia, mi hai amato in ogni momento e mi hai fatto capire in maniera importante cos'è l'amore. Mi mancherai più di quanto riesca ad elaborare in questo momento. Grazie per il regalo che sei stata». Carol Potter, l'attrice che in Beverly Hills 9210 ha interpretato Cindy Walsh, la madre di Brenda, ha pubblicato una foto del cielo al tramonto, accompagnata dalle seguenti parole «Sono scioccata e rattristata della morte di Shannon Duarte. Che viaggio ha fatto? Se ne è andata troppo presto. Per tutto il tempo è rimasta fedele a se stessa e ci ha dato un esempio di coraggio e perseveranza nell'affrontare la sua morte. Che possa riposare in pace». Gabriel Carteris, Andrea Zuckerman dal 1990 al 1995 in Beverly Hills 9210 ha salutato l'amica e collega rivolgendo un pensiero anche a Luke Perry, scomparso prematuramente nel 2019. «Così giovane, così triste. Che tu possa riposare in pace, Shannon. So che Luke sarà lì per te, a braccia aperte, per amarti». Mark Spinoza, che si è unito tra il 1993 e il 1994 al cast di Beverly Hills 9210 per interpretare il personaggio di Jesse Vasquez, ha scritto in un post che sarà per sempre grato di aver incrociato il suo percorso con quello di Doherty. «Un altro giorno, un'altra grande perdita. Troppo giovane per la charte. Shannon ha interpretato una strega in Charmed ma in realtà era una guerriera e ha combattuto come tale per vivere. Per me sarà sempre Brenda Walsh, punto». Risposa in pace. «I cieli sono più luminosi per la tua presenza tra le stelle». I colleghi di Streghe. Alissa Milano, collega di Shannon Doherty sul set di Streghe, ha invece scelto di rilasciare una dichiarazione ufficiale a Stati Uniti Weekly. «Non è un segreto che io e Shannon avessimo una relazione complicata», ha detto l'attrice, «ma in fondo era qualcuno che rispettavo profondamente e per cui provavo soggezione. Era un'attrice di talento, amata da molti, e il mondo è più povero senza di lei. Le mie condoglianze a chi la amava». Rose M. C. Gohan ha raccolto in un riel molte foto dell'attrice a cui è subentrata nel 2001 in Streghe. A Corredo ha scritto un lungo post per Doherty, una star fin dall'infanzia e che l'ha ispirata con la sua etica del lavoro. Shannon aveva il cuore di un leone, punto. Le nostre vite si sono incrociate in modo unico, abbiamo scelto amore e rispetto. Il suo amore per la regia, la recitazione, il suo cane, i suoi amici, genitori, è stato leggendario. Possano Dio e gli angeli portarla in un regno dove è sana. Riposa guerriera, non ti dimenticheremo mai, cara sorella. Brian Krause, altro collega sul set di Streghe, ha scritto sul suo profilo Instagram, mi hai mostrato cosa sia la forza. Mi hai insegnato a non aver paura e vivere con uno scopo. A conoscere il proprio valore e stare fermi nella propria determinazione. Per sempre amata. Veramente col cuore infranto. L'attrice premio Oscar Viola Davis ha voluto ricordare così Shannon Doherty, condividendo un video di una sua intervista a People e poche parole ad accompagnare il filmato. Il tuo coraggio e la tua capacità di condividere il tuo viaggio col cancro ha lasciato qualcosa nelle persone. Riposa bene. Dio benedica i tuoi amati.